Grazie. 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 Sì, contrariamente a quello che avevamo detto, che avrebbe parlato per ultima, la facciamo parlare per prima. Sì, appunto. Il libro di Elieco Labraro è un lungo e intenso viaggio narrativo, condensato in poco più di cento pagine, tra i sentieri dell'impossibile e il filo del contingente, fino all'incredibile, fino al teorema della qualità intellettuale. Da Olivadi parte il suo viaggio, villaggio di mito e di saga, piccolo fazzoletto di case ormai riconoscibile. Leggete, aprendo internet, una scarna descrizione. Olivadi sorge a 498 metri sopra il livello del mare, nella provincia di Catanzaro. Da cui dista 49 chilometri. Olivadi conta 643 abitanti e ha una superficie di 7 chilometri quadrati, per una densità di 90 e 56 abitanti per chilometro quadrato. Ad Olivadi nacque nel 1653 il beato padre Antonio da Olivadi, frate Francescano, che predicò in tutto il meridione, fece diversi miracoli e fu venerato come un santo dalla popolazione. Più vicino al microfono, più vicino. Quando sono nato io, Olivadi, che all'epoca aveva circa 2500 abitanti, ma oggi ha appena 650 residenti, era come la gran parte dei comuni calabresi, con le medesime caratteristiche, pressoché isolato. Passava un'unica strada che collegava l'altopiano delle serre al capoluogo Catanzaro. Per quella strada passavano una volta al giorno i cosiddetti postali, che servivano sia a trasportare le persone, sia a portare la posta, di cui appunto il nome di postali. Ma quell'unica strada non era neanche asfaltata, c'era il briciolino per terra, e la cosa stimolava la fantasia dei ragazzi, come me. Così, quando passava il postale, pur di avere la sensazione di come si viaggia, trasportati da un automezzo, ci attaccavamo dietro alla scaletta del portabagagli. Poi, a un certo momento, quando la velocità aumentava, veniva fuori la paura. Chissà dove mi porta. Ci lasciavamo cadere e spesso le ginocchia cominciavano a sanguinare. Olivadi, nel mito, è il villaggio in Natale, con la sua lingua, i suoi racconti, i proverbi, le ricorrenze, i canti, le filastrocche, il lavoro, il gioco, le preghiere. Ed ora, ascoltate un altro racconto. Questa volta il villaggio si chiama Agromastelli, e a raccontarle un altro calabrese, Armando Verdiglione. Agromastelli sorgeva nella terra che era stata di Pitagora e di Campanella, dinanzi al mare Ionio, non lontano dal paese di Parmenide e di Vico. Il sole usciva dalla montagna di Granito, da sinistra, al mattino, presto, e alla sera tramontava tardi, a destra, e splendeva su Agromastelli quasi per l'intero anno, con rarissimi giorni di nebbia. Agromastelli, dove si trova? Poche case, alcune sparse lungo la collina e altre ravvicinate, meno di 500 abitanti. Ecco, qui al centro, la casa più bella, nulla di eccezionale, qualcosa di particolare aveva. E lì, sullo sfondo, di fronte, il mare. Qui, ai piedi della collina, la fiumara. Tre villaggi appoggiati sulla sinistra, lì, prima che si erga la montagna di Granito, nuda, che da mani a sera, durante il giorno, assume vari colori. Due villaggi possono notarsi, il terzo si dilegue in fondo alla collina. Quei tre villaggi appartengono a un'altra municipalità, e un'altra collina proprio di rimpetto a Agromastelli. Fra le due colline si spalanca una grandiosa finestra sul mare. E prima che le due colline sembrino rinchiudersi per riaprirsi subito a favore del mare, ecco un'amplissima zona chiamata il Giardino. E sulla destra, quasi accanto alla collina di rimpetto a Agromastelli, una vallata fatta di vigne, di olivi e di molte piante da frutta. Dire che lì a Colabraro è calabrese è un'approssimazione, un'inesattezza, quasi forse un genere letterario. La Calabria è terra di sole e di forza, di lingua robusta e di lavoro, di determinazione e di pragmatismo, perché è ciascun villaggio, nessuno uguale all'altro, con lingue differenti, differenti modi di fare il pane, differenti inflessioni e sfumature, tali da riconoscersi uno per uno, sullo Ionio o sul Tirreno, dei pianalti o della marina, della collina o della montagna. Così, a dire, è calabrese, può essere solo chi pensa alla Calabria come un'entità geografica, né più né meno come la Lombardia. Ma chi soltanto della Calabria abbia respirato l'aria profumata e aspra, viaggiato tra oliveti e pini, querce e abetti, gelsomini e agavi, fichi d'India e eucalipti, chi abbia mangiato di quel pane, bevuto di quell'acqua che viene dalle montagne di granito, non si accontenta di una risposta tanto generica, perché di questa terra importano la particolarità e l'idioma. ma ascoltate il racconto breve di Elieco Labraro. Alla scuola elementare andavo poco perché bisognava lavorare in campagna. Quando arrivai a dieci anni, la maestra, che si chiamava Letizia, insisteva continuamente con mia madre. Questo ragazzo deve trovare la maniera di farlo studiare. Mia madre si sentiva orgogliosa, ma c'erano i nonni, soprattutto Maria, la mamma di mia madre, che non erano dello stesso parere. Anzi, dicevano, è il caso che il ragazzo venga tutti i giorni in campagna a imparare bene il mestiere, altrimenti chi te li coltiverà questi terreni fra venti o trent'anni, quando tu non ce la farei più? Di fronte a questo dilemma, io dovevo prepararmi per gli esami di ammissione alla scuola media e per farlo dovevo andare a lezione da quella maestra che insisteva tanto perché io frequentassi le scuole medie. Che fare? La casa della mia famiglia era su due piani, piano terra e primo piano. Quando c'erano i nonni materni, io andavo nel retro della casa, mi buttavo giù dal balcone del primo piano e andavo a sentire le lezioni della maestra. Feci gli esami di ammissione e veni rimandato in italiano. A quel punto il problema era abbandonare definitivamente o no. A ottobre andai a Catanzaro a fare gli esami di riparazione. Il tema di italiano. Mi trovai vicino a un ragazzo, anche lui rimandato in italiano. Riconoscevo la mia assoluta inferiorità. Non sapevo neanche parlare l'italiano e mi esprimevo normalmente nel dialetto del paese. A un certo punto a quel ragazzo fece una proposta. Scambiamoci i temi. Tu consegni il mio, io il tuo. E lui ha consentito. Io naturalmente non sapevo che cosa avesse scritto, ma tanto ormai o va bene o va male. Fatto sta che io superai l'esame e lui, lui, non so che fine abbia fatto. Il ragionamento è l'azzardo, intuito è fortuna. Chi rischia è premiato. E ascoltiamo ancora Verdiglione. Era andato anche a piedi fino a Soverato, fino a Siderno, fino a Roccella, fino a Locri. Il 15 agosto andava spesso alle feste dell'Assunta a Serra San Bruno, dove era monaco di clausura che aveva buttato la bomba su Hiroshima, sul pianalto. Almeno un terzo degli abitanti della Calabria partecipava a quella festa. Altre volte andava a Montestella, dietro la montagna di Granito, sulla sinistra. Una statua della Madonna stava in fondo a una grotta bella. Da Olivadi, conclusi gli esami di terza media, il ragazzo si trasferisce a Vivo Valencia. E anche lui ci descrive il percorso. Un'intera giornata di treno, fino a Soverato con la Littorina, da Soverato a Catanzaro, da Catanzaro a Santa Ufemia, da Santa Ufemia a Vivo Marina, da Vivo Marina a Vivo Città, fino al convitto nazionale filangeri, dove gli spettano, per aver vinto una borsa di studio, vitto alloggio e istruzione. E questo racconto del viaggio, ricorrente nel libro di Colabraro, insiste sui luoghi e sui tempi a sottolineare la distanza dal paese d'origine, che gli consente di non accontentarsi, di non chiudersi nel cerchio della paura, di non credersi già destinato. Il viaggio, l'apertura, la novità, l'avventura, è sempre la fede nella riuscita, in un modo o nell'altro, senza rigidità, senza purismo, sempre cogliendo al volo un'occasione, assecondando il caso, forzando la sorte, con talento e bravura, lo conduce di città in città, di traguardo in traguardo, di scommessa in scommessa. Lui va, non appare, lavora sodo, si ingegna, trova il modo, non si sente mai povero, mai vittima, mai in difetto. Non ha il libro per studiare, se lo copia di notte, prende dieci. Non ha i soldi per la retta, riesce a convincere l'amministratore a fargli credito. Viene chiamato perché è bravo, ma esige che ci sia per lui l'occasione di un lavoro. Cerca il lavoro, ne trova tre, ma è lui a scegliere. Prosegue il suo viaggio, supera diversi concorsi, sempre più di uno, sicché può scegliere dove andare. Va a Livorno. A Livorno entra in accademia, ottiene il suo scopo, che è quello di poter studiare, e se ne riparte. Notate lo spirito di libertà. Per me, che non sopportavo assolutamente la rigida disciplina della vita quotidiana, non c'era più motivo di rimanere. Eccezionale. Non pensa mai che quella sia l'ultima occasione, che sia bene fermarsi, accomodarsi, godersi il privilegio. No, lui rilancia, lascia per prendere, prende per lasciare, spariglia le carte, si offre una nuova occasione e un altro viaggio. Da Livorno a Roma, da Roma a Parigi. A Parigi rimane quattro mesi, e poi lascia, perché dice, fa troppo freddo. Torna a Roma, poi a Bologna, da 73 a 75, a Napoli, dall'84 all'85, a Padova per due anni, a Milano, di nuovo a Roma, incrociando gli interessi della banca e quelli dei clienti, e seguendoli per filo e per segno fino a ogni regione del pianeta. La chiarezza, la lucidità, la semplicità, sono prerogative di ciascuna prova, che per lui diviene prova di verità. Non ti preoccupare, ci tendiamo domani. Storie, aneddoti, tavole della vita, aforismi, lezioni, racconti, racconti brevi, costellano l'itinerario intellettuale, costituito da romanzo storico e da romanzo politico. La sua scrittura è quella dell'esperienza, la lingua è quella di chi l'italiano ha dovuto impararlo, lingua efficace, breve, ma è ampollosa, lingua delle cose, non la lingua degli umanisti, trombetti. Il registo resta quello intellettuale, sono attraversate, e sfatate più di un'epoca lungo la trasformazione culturale dell'Italia e dell'Europa, delle imprese private e delle banche. E nulla pesa ormai né per il narratore né per il lettore. Fatiche in mani sono state affrontate, sacrifici, ma senza spirito eroico, tragico, senza fatalismo. Se anche sul gatto pardo sembra incombere ancora un'ombra nel romanzo teorico di Colabraro, la leggerezza tocca il dettaglio, la nota, la riga. Per chi si trova a leggere questa saga nella Calabria come regione inattraversabile del paradiso, è chiaro in ogni angolo che l'ostacolo rimane assoluto, che è la condizione stessa del piacere della vita. Non c'è nulla che possa diventare drammatico. Ciascuna cosa, facendo e narrando, trova la sua piega per qualificarsi. Una galleria di episodi, di occasioni, di interlocutori non cercati e trovati, di maestri e di allievi, di porte che si spalancano per un caso della vita, di esami superati, di alloggi di fortuna, di strade che si dipanino a differenti incroci, di svolte, di decisioni rapide, di incontri fortunati, offre man mano ritratti e affreschi all'insegna della brevità fino alla stenografia. La vocazione intellettuale, la razionalità e il ragionamento hanno ispirato ogni azione, ogni gesto, ogni decisione nelle varie e differenti fasi del viaggio, compiuto senza passaporto ideologico e senza salvacondotto da parte di una qualunque oligarchia. La realtà, la dignità, l'onestà, l'audacia e il rischio sono virtù quasi impossibili nel bancario, rarissime nel banchiere. Elia Colabraro è un grande banchiere, un banchiere intellettuale, quale mai altri prima. Allora, sentiamo adesso l'avvocato Sforza Fogliani, presidente della Banca di Piacenza e della Confedilizia. La presentazione del libro di Elio Colabraro, un libro che avvince per l'esperienza personale raccontata, sulla quale non mi trattengo perché è già stata così brillantemente e desorientemente trattata da Cristina Fua De Angel e la profondità nello stesso tempo chiara della trattazione di una materia complessa cade in un periodo particolarmente critico per il sistema finanziario mondiale. Ma proprio per questo la lettura del libro è estremamente interessante e tale da suggerire molteplici considerazioni. il libro ci ricorda anzitutto i doveri del sistema bancario che, dice Colabraro, deve sottastare a un insieme di regole. Ecco, le regole. Il mercato non è in rerum natura ma viene conformato dal diritto, dalle regole appunto. Nel 2004 peraltro per venire agli Stati Uniti la SEC concesse esenzioni speciali alle cinque grandi banche d'affari. E poi le cause vere della crisi non vanno forse ricercate nelle politiche pubbliche che hanno favorito in ogni modo il credito facile? A garanzia della maggior parte dei mutui americani c'erano due giganti parastatali sostenuti a loro volta dall'implicita garanzia del tesoro. E non è un caso che le banche che hanno fatto i peggiori investimenti sui mutui sono proprio le più controllate mentre quelle meno controllate hanno avuto i problemi minori. Dunque i fallimenti sono figli dell'azione della banca centrale interessata molto più che del mercato capitalistico l'inondazione di liquidità ha causato uno sfasamento dei segnali di mercato ha mantenuto artificialmente a galla realtà che sarebbero dovute affondare ha posticipato il re dell'azione ma attraverso tanti piccoli sollievi il cui conto ora ci viene presentato. La prima responsabilità della crisi è di un attore totalmente pubblico e talmente pubblico che incarna un attributo caratteristico della sovranità la prerogativa di battere moneta. Ma un'altra situazione spesso ignorata l'ha segnalata il presidente Bush nel suo discorso alla Nazione del 24 settembre. per più di un decennio gli investitori stranieri hanno fatto entrare un'enorme quantità di denaro negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti apparivano come un luogo favorevole e sicuro per fare business da cui in mancanza delle regole di cui si diceva la facile possibilità di ottenere crediti insieme all'errata convinzione che il valore delle case sarebbe continuato a crescere ha portato ad eccessi e decisioni sbagliate. Ancora la mancanza di regole e controlli ha portato certe banche a concentrarsi sul solo obiettivo di erogare credito e incassare le commissioni trasferendo ad altri il rischio attraverso prodotti che molte volte neppure gli specialisti e neppure le società di rating riuscivano e riescono a capire cosa contengano questa è la crisi della degenerazione del mercato non del mercato ha scritto Marco Vitale insomma non si tratta di invocare più Stato ma più diritto più regole anzi più principi più responsabilità diffuse più rispetto del mercato è l'ispirazione di fondo dei senatori repubblicani e democratici che hanno a suo tempo respinto il piano del tesoro c'è qua ha spiegato bene proprio Oscar Giannino sul libero mercato la coerenza di un modello che pur attraverso crisi economiche anche terribili ha sin qui sempre dato agli Stati Uniti la forza di risorgere più forti di prima il libro di Colabraro poi ci ricorda un altro dovere il dovere delle banche di essere e di rimanere se stesse il gigantismo specie se a tutti i costi non ha pagato ha portato alla moltiplicazione e quindi alla dispersione e all'annullamento di fatto dei livelli di responsabilità le banche senza sportelli che sembravano il futuro hanno già fatto il loro tempo ha vinto la banca che non si è gettata sui mercati finanziari a scapito dell'attività commerciale tradizionale si riconosce oggi più che mai che il radicamento territoriale porta con sé il vantaggio competitivo è per la conoscenza della clientela che comporta la maggiore economia di scala presiede una banca di territorio che interessa sette province e tre regioni servendo e unendo terre omogenee per tradizione e mentalità abbiamo resistito ad ogni tentazione e suggestione ed anche a interessati consigli ci siamo sempre ispirati al motto dei nostri vecchi fare solo il passo che gamba consente oggi possiamo con orgoglio dire che non abbiamo in pancia neppure un subprime e neanche un subprime all'italiana che non abbiamo venduto neppure un derivato neppure uno dal 1998 non conosciamo l'anatucismo che poi sottolineo il poi la Cassazione ha condannato assicuriamo ai nostri azionisti un rendimento costante e crescente il libro di colabraro per finire ci ricorda da ultimo un terzo dovere e questo riguarda i clienti il primo a dover dimostrare di credere nell'azienda dice colabraro è l'imprenditore ma allora se tu imprenditore nell'azienda ci credi mi devi dare le garanzie se non sei d'accordo allora vuol dire che il primo a non crederci sei tu in tal caso arrangiti da solo agli imprenditori che in questi giorni hanno acquistato paginate di pubblicità sui giornali per chiedere al sistema bancario di non lasciare le imprese chiedo ma voi firmate? grazie allora ringrazio l'avvocato Sforza Fogliani allora adesso passo la parola a Oscar Giannino allora io devo innanzitutto scusarmi con collaborare con voi tutti perché sono in qualche maniera responsabile del ritardo e quindi chi è a ritardo ha sempre torto e quindi mi prendo la mia parte di torto e quindi sarò breve tenterò di essere breve ma dirò che ci sono almeno quattro buone ragioni per cui la lettura di questo libro seminariale nato da un racconto conciso e preciso di solito i racconti nella tradizione di chi non fa questo di mestiere non fa il raccontatore di mestiere non sono né concisi né precisi invece scoprire che poi ci si racconta in maniera concisa e precisa significa di solito che siano le idee molto nitide e chiare perché se non si hanno idee chiare non si riesce a esporle in maniera concisa e precisa questa è una delle ragioni vi dirò che mi ha molto colpito e poi però mi sono interrogato da dove nascesse questo nitore intellettuale ed è una delle quattro ragioni non ne dirò più che quattro in realtà ce n'erano molte di più ma ne dirò solo quattro delle ragioni per cui la lettura di questo libro mi ha colpito la prima è perché Colabraro appartiene a una tra virgolette nobile razza di banchieri almeno per me vi spiegherò perché perché chi è cresciuto nella pratica con maestre con esempi e poi lo ha fatto professionalmente facendo quel particolare tipo di credito che è quello degli impieghi a medio e lungo termine come Colabraro e cioè è cresciuto in un mondo bancario che era quello le cui coordinate erano date dalla legge del 36 che distingueva il credito a breve dal medio al lungo periodo e aveva dovuto distinguerlo in Italia come in tutto l'Occidente per porre rimedio alla grande crisi del 29 e degli anni successivi cioè a una crisi in cui gli stati erano dovuti intervenire per salvare le banche perché le banche finanziando imprese non avendo limiti tanto si erano esposte tanto avevano preso capitale tanto avevano contribuito alla creazione di valori non determinati più e non riconosciuti più dal mercato che erano le banche in ultima istanza a rischiare non solo le imprese ad andare a catafascio e di lì la necessità di distinguere il credito a breve da quello a medio e a lungo chi è cresciuto in un mondo in cui queste coordinate erano nettamente separate e ha esercitato il credito a medio e lungo termine in Italia appartiene dal mio punto di vista a una razza nobile a un'elite di banchieri che in anni difficilissimi per il nostro paese come erano quelli agli anni 50 agli anni 60 agli anni 70 e poiché le altre banche quelle ordinarie commerciali non lo potevano fare aveva il difficilissimo compito di valutare il merito di credito delle imprese degli imprenditori in un paese che era uscito in ginocchio dalla seconda guerra mondiale che aveva terribili problemi di ricostituzione di equiti industriale e che chiedeva a pochi pochissimi banchieri di esercitare questa funzione che era fondamentale per lo sviluppo del paese perché dico che ai miei occhi è una razza nobile perché per caso nella vita io mi sono trovato a crescere in una casa che era quella repubblicana del partito repubblicano e una fortunata coincidenza nella vita mi ha portato ad entrare nelle grazie della famiglia Lamalfa di Ugo Lamalfa prima che del figlio e grazie a questo io ho potuto conoscere nella mia vita e frequentare per alcuni anni riservatamente naturalmente visto il personaggio italiano che ai miei occhi rappresenta il più limpido il più straordinario esempio che io abbia mai conosciuto di uomo capace di coniugare la cultura e la capacità di giudicare un imprenditore guardandolo negli occhi sto parlando di Enrico Cuccia e io considero l'incontro che ho avuto con Cuccia la frequentazione che ho potuto avere in quegli anni un'esperienza per me di crescita straordinaria proprio perché spesso il confronto a casa sua era esattamente su questo in base a quali criteri oltre ai fondamentali contabili di cui parla anche Colabraro nel suo libro veniva concesso o negato e se concesso a quali condizioni ovviamente il credito a medio e lungo termine in un paese contraddistinto certo da una certa effervescenza della volontà di intraprendere ma da una povertà totale dei mezzi che sono quelli che garantiscono poi la riuscita e il rendimento del capitale ecco siccome aver esercitato questa arte in un mondo che separava le attività bancarie dal mio punto di vista ha portato quei pochi banchieri a fare di questo paese ciò che di meglio questo paese ha rappresentato nel secondo dopoguerra io credo che vada loro riconosciuto perché sulle loro spalle sui loro conti sulla capacità presa magari copiando un libro di analisi logica in quella notte che è la pagina finale del libro ecco ma quella analisi logica loro l'hanno saputa applicare a una geografia che era profondamente piegata sotto ancora il sottosviluppo come era quella dell'impresa italiana nel secondo dopoguerra quindi primo non stiamo parlando di un banchiere qualunque stiamo parlando di un banchiere che stava in un sotto insieme molto tra virgolette ben identificato che ai miei occhi ha rimesso in piedi questo paese più della politica più di tutto il resto quindi io sono grato a questo tipo di scuola poi c'è una seconda ragione che mi rende questo libro straordinariamente caro vedete quest'anno io ho tenuto per curiosità di tornare nelle università italiane da cui mancavano un po' di anni una serie di lezioni alla cattolica a studenti che si stavano laureando erano alla fine del triamo di specializzazione gente che aveva dato tutti gli esami rispetto ai quali si potevano tenere lezioni con la convinzione che i fondamentali delle materie economiche fossero a loro ben presenti tra l'altro tra i cento che frequentavano le lezioni i voti erano molto elevati devo dire la verità e allora il mio corso era sulla crisi degli intermediari finanziari perché siccome la crisi è cominciata un anno fa io ho voluto con loro esaminare un po' di case history come si dice in inglese ogni due tre lezioni mi portavo un attivo patrimoniale di una banca da esaminare insieme a loro per vedere quali problemi c'erano detti o più spesso secondo me non detti in quell'attivo patrimoniale che cosa avrebbe potuto accadere a quella banca di che cosa erano figli quegli attivi patrimoniali e la loro tra virgolette bassa trasparenza e bassa qualità che cosa ci dicevano del modello di intermediazione finanziaria che era oramai bisogna dire era dominante negli ultimi quindici anni come drive dello sviluppo dell'intero pianeta badate bene allora io ho avuto questa esperienza devo dire la verità un'esperienza per me non molto soddisfacente perché ho scoperto che sarà sicuramente un'eccezione sicuramente io non sono un accademico sicuramente ho basse capacità di intrattenere un pubblico di studenti certo la reattività degli studenti mi è sembrata molto bassa rispetto a gente che era alla fine del proprio corso di cinque anni all'università e soprattutto vengo alla seconda ragione per cui questo libro secondo me io lo consiglierò agli studenti se rifaccio il corso l'anno prossimo e che ho scoperto che nessuno di loro sapeva leggere un bilancio non aveva la minima idea di come si facesse gente che prende una laurea in economia con ogni probabilità con un buon voto vi posso garantire non aveva la minima idea non ne aveva mai visto uno in cinque anni di studio e lo so che alcuni dicono non è possibile vi posso garantire di fronte all'esame di attivi è vero che gli attivi patrimoniali delle banche soprattutto quelli di investimento sono abbastanza complicati da leggere quando portai gli attivi patrimoniali di Lehman Brothers sei mesi fa ecco quindi cinque mesi e mezzo prima che poi fallisse mi presi la soddisfazione di il solo carrello perché si trattava di sei volumi ciascuno di 1800 pagine un carrello con un commesso per portarlo certo sono complicati da leggerci dentro quelli non sono attivi patrimoniali di SRL o dei bilanci ma il problema è che gli mancavano i fondamentali vedete allora in questo libro la cosa che ho trovato straordinaria è che alcuni fondamentali tipo quali sono i requisiti per la finanziabilità dell'attivo circolante ecco sono spiegati in maniera limpida chiara nitida che anche se non hai dato non hai mai preso un libro di economia in mano lo capisci dico attivo circolante perché oggi se nelle università parlate di circolante si mettono tutti nella migliore delle ipotesi a sorridere perché considerano questa roba una nozione preistorica perché gli esami di finanza aziendale uno due e poi ci sono anche i seminari sono tutti fatti su tecniche raffinatissime sintetiche di gestione con prodotti ad hoc dello sviluppo e della finanziabilità dello sviluppo della parte immateriale degli imprese o degli intangibles come si dicono però guardate di attivo circolante se voi iniziate a parlare c'è del magazzino di queste cose qua e mi dicono ma queste sono cose di cui ci si occupava cent'anni fa ecco la mia opinione è che se non si sa che cosa è l'attivo circolante è un po' difficile che si possa poi fare bene o l'imprenditore o il manager eccetera eccetera però vi posso dire che in questo libro c'è il nitore di una spiegazione tanto per esempio precisa di un ramo in cui con la bravo si è esercitato per anni è stato un pioniere cioè il project financing per esempio fino a elencare per ogni singolo avanzamento del progetto qual è lo strumento obbligazionario di finanziamento che corrisponde a quel singolo passaggio e al rischio preciso di quel singolo passaggio che per esempio questa roba qua io sono convinto per spiegare cos'è il project financing a qualcuno che non abbia la minima idea è in grado di spiegarlo in maniera precisissima quindi la seconda ragione che secondo me discende dalla prima chi ha fatto quel tipo di attività bancaria ha questo tipo di precisione interviene e sviluppa alcuni fondamentali dell'attività del credito e li sa spiegare a un pubblico che di solito si dice queste cose non le capisce perché sono troppo difficili e troppo tecniche di solito è l'obiezione che mi viene mossa anche quando io faccio il mio giornale ogni giorno a volte ci capita di parlare anche con Feltri e Feltri ma tu esageri perché queste cose qua sono troppo complicate ecco io vi dico che non mi piace molto l'idea di un paese in cui io conosco un mucchio di gente che ha elevati redditi flusso di reddito disponibile ha anche elevati stock patrimoniali e di solito poi ti viene a dire ma io non ci capisco niente io non me ne occupo perché in definitiva fa tutto il mio gestore ecco io un paese così lo capisco poco a dirvi la verità lo capisco molto poco perché come sia giustificabile questo livello bassissimo di cultura finanziaria testimoniato da tutte le graduatorie internazionali da qualunque tipo di sondaggio che si faccia negli istituti medi superiori rispetto in Italia rispetto a quelli di altri paesi avanzati ecco questa è una lacuna che ai miei occhi è largamente incomprensibile devo dirvi la verità e che rende inevitabilmente il banchiere un punto di riferimento nel bene come talvolta nel discutibile non voglio dire nel male ancora più importante perché è un paese in cui mancano nozioni così di fondo per esempio è il paese in cui gli imprenditori italiani gli imprenditori italiani che sono diversi milioni per essere sono proprio pochi ma gli imprenditori italiani hanno tra le tante una caratteristica oltre alla loro straordinaria capacità di tirarsi sulle maniche di aver tirato in piedi questo paese sono gli imprenditori che nell'ambito dei paesi Ocse hanno il più basso titolo di studio in media gli imprenditori italiani se io vi dovesse dire qual è la loro percentuale di laureati o addirittura di istruzione universitaria post laurea voi rimanereste increduli per quanto è bassa ecco quindi il banchiere diventa a maggior ragione un punto di riferimento essenziale però vengo alla terza ragione con la terza e la quarta mi sposto un po' su quello che sta avvenendo nell'ultimo anno ovviamente vengo alla terza ragione diciamo l'imprenditore che non è caso sono le ultime sette o otto pagine del libro perché a un certo punto alla fine dell'ultimo incontro la signora De Angelis e Armando Verdiglioni gli chiedono ma ci parli dell'interazione tra l'analista mandato dalla banca per decidere del merito di credito e l'imprenditore il suo management il suo team nell'impresa ecco l'imprenditore diciamo da un po' di annetti a questa parte per via del modello di intermediazione finanziaria che era risultato dominante aveva un livello di interlocuzione un po' diverso nella mia esperienza da banchieri che si sono fatti sono formati hanno sviluppato il loro successo hanno portato al successo gli istituti presso i quali lavoravano li hanno fatti crescere in Italia in un grande consolidamento hanno portato alcuni di loro a essere oggi tra i maggiori istituti europei e anche tra i meno a rischio in Europa che tutto sommato è un titolo di merito che possiamo iniziare a riconoscerci dopo un anno di ballo delle banche in tutta Europa cioè lo scorso lunedì lo scorso lunedì non appena è stato chiaro che nel bail out nel salvataggio che il congresso americano si era un po' renitente a votare nella prima versione quella del mandato in bianco chiesto dal segretario del tesoro Paulson io per esempio non lo avrei firmato un mandato in bianco a dire la verità quando si tratta dei 700 miliardi di dollari ma quando è risultato chiaro che grandi istituti bancari europei non avrebbero potuto accedere al drenaggio dei titoli tossici eventualmente presenti nei loro bilanci perché chi rappresentava il contribuente americano secondo me a buon diritto ha detto no 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 se sono banche straniere che hanno attività negli Stati Uniti non si fa come se fossero banche americane ecco è bastato questo perché tra un sabato e una domenica cinque grandi banche europee abbiano dovuto fare toc toc alla porta dei regolatori nazionali o dei governi per dire guardate che o ci salvate o lunedì quando riapre il mercato noi andiamo a picco e nomi importanti Dexia che qui viene ricordata perché ha avuto anche una certa presenza in Italia prendendo il credit op nell'ambito dei finanziamenti delle opere pubbliche Fortis B&B in Gran Bretagna Ipore in Germania ecco nessuna banca nessuna banca italiana grazie al cielo ma dico che però gli imprenditori anche nel nostro paese negli ultimi 10-15 anni hanno avuto molto più facilmente un'interlocuzione bancaria che non è figlia tanto di questa impostazione o non solo di questa impostazione ma che era è stata invece un'impostazione della controparte bancaria con cui studiare la finanziabilità della propria crescita d'impresa molto condizionata molto fortemente condizionata dal modello di intermediazione finanziaria che andava per la maggiore Unicredit banca d'impresa dico un nome tra il 2001 quando la curva dei tassi prende una certa direzione imprevista rispetto alle analisi al 2004-2005 a non meno di 15.000 piccole e medie imprese italiane ha iniziato a proporre delle coperture in derivati vedete che non vanno demonizzate in quanto tale i derivati se ben utilizzati al servizio di una tecnica misurata della valutazione del rischio servono a coprirsi da rischio lo splittano sul mercato quindi splittandolo cioè spalmandone su più spalle l'eventuale danno al manifestarsi del rischio ne abbassano per tutti la percentuale quindi sono uno strumento di crescita se ben esercitato se invece però la valutazione del rischio è un pochino azzardata ecco che i derivati possono diventare dei moltiplicatori di perdita con leve molto elevate ecco in quel caso lì per esempio iniziarono a proporsi a piccole e medie imprese italiane che non hanno un CFO non hanno un C financial officer non se lo possono pagare in bilancio uno che abbia due master ad Harvard iniziarono a proporgli degli strumenti di copertura sintetici che non erano solo dal rischio del tasso di cambio o non erano solo rispetto al rischio degli andamenti di tasso di interesse ma che poggiavano su indici complessi di andamento di titolo di commodities eccetera eccetera e le imprese hanno sottoscritto e di quelle 15.000 imprese 800 sono andate a fallimento 500 sono andate in contenzioso in Italia andare in contenzioso contro una grande banca siccome siamo in un sistema multiaffidatario significa quando una banca ha l'importanza di quella banca lì che ti puoi permettere di andare in contenzioso senza che le altre banche ti chiudano contemporaneamente il rubinetto come fa quella con cui vai in contenzioso quindi significa avere delle spalle molto forti quindi solo 500 su 15.000 avevano spalle forti i rimanenti cioè 900 più 500 sono 1.400 i rimanenti sono comunque più di 13.000 imprese si sono dovuti mettere a bilancio perdite tra i 4 e i 6 miliardi di euro solo per questo tra virgolette lo chiamo giochetto ma non voglio mancare di rispetto non era un giochetto naturalmente per i banchieri che lo proponevano non era un giochetto per gli imprenditori che li avevano sottoscritti ma ecco a che cosa può portare e a che cosa ha portato anche in Italia a dire la verità un certo modello di intermediazione finanziaria quello che da un anno a questa parte entra in crisi quello che io mi auguro sia finito una volta per sempre e che però guardate non è il gambling la speculazione il grid cioè l'avidità che poi semplificando noi stessi giornalisti raccontiamo di fondo di fondo e vado alla quarta ragione finale per cui questo libro mi è piaciuto particolarmente e mi piacciono banchieri particolarmente come Elia Colabrano la crisi che noi stiamo vivendo è la crisi di una categoria intellettuale vedete la finanza la banca come il fisco non sono aridi numeri non è affatto io non ho mai condiviso questa impostazione i numeri sono strumenti le tecniche matematiche sono strumenti che affondano le proprie radici su visioni del mondo su che cos'è un valore allora la crisi che stiamo vivendo è la crisi di strumenti di teorie matematiche che hanno prodotto strumenti finanziari sintetici ma questi strumenti nascevano da un fine che era giustificato era alto era nobile anche quello all'inizio perché è la crisi di strumenti finanziari che servono al trasferimento del rischio di credito tutti questi acronimi che voi sentite le asset based securities i cdo e così via cioè tutti questi prodotti finanziari sintetici costruiti su derivati indici di derivati eccetera eccetera venduti collateralizzati a emissioni obbligazionarie che venivano piazzate sul mercato per fare funding affettati e poi rivenduti in giro per il mondo in maniera tale che ne risultasse incomprensibile la composizione in un attivo patrimoniale di chi se li ficca in bilancio in tutto il mondo ecco quegli strumenti lì avevano un fine nobile all'inizio erano strumenti sintetici di trasferimento del rischio di credito però però questo fine nobile veniva esercitato in violazione sempre di più in violazione di quello che è uno dei pilastri dell'etica di ogni banchiere qual è questo pilastro dell'etica di ogni banchiere che tutto si può fare in una banca ma non si può trasferire su terzi estranei al proprio perimetro di bilancio e attivi patrimoniali il rischio del credito esercitato intermediando unità di capitale questo è ciò che è venuto sempre di più negli ultimi anni con veicoli ad hoc fuori dal proprio bilancio con prodotti il cui rischio di controparte sulle spalle di terzi vedeva gli emittenti alzare le mani e dire noi non c'entriamo niente e questo era il motivo per cui una banca come Liman sei mesi fa io potevo portare le 12.000 pagine dei suoi attivi patrimoniali dicendo a mio modestissimo giudizio che faccio giornalista poi vabbè ho preso due maestre a Chicago ma li ho presi così per formazione mia oltre alle lauree che ho preso ma non sono un accademico ma a mio giudizio cari laureandi alla cattolica siccome c'è una leva finanziaria di 1 a 32 tra unità intermediate e questi attivi io dico che questa banca un regolatore dovrebbe dire no stop tu così non puoi andare avanti ecco allora questa quarta ragione che è il vero motivo secondo me a farla stretta molto più dei bonus dati ai banchieri delle fees che pure fanno scandalo giustamente fanno scandalo dello short term cioè del fatto che il sistema finanziario americano è tutto traguardato sulla trimestrale quindi la finanza serve a moltiplicare i risultati sulla trimestrale e così via ma in realtà il motivo per cui quel tipo di intermediazione finanziaria ha finito per diventare prevalente a far danni anche sul tessuto imprenditoriale italiano non come altrove ma anche in Italia nasce dal fatto che la finanza per la finanza che io non demonizzo può partire per nobili intenti quelli di inventare nuove tecniche di gestione di trasferimento del rischio di credito e arrivare a dei perversi esiti quello di dire l'ottimizzazione del trasferimento del rischio di credito è che io lo metto sulle spalle di qualcun altro e il mio bilancio non ne risponde ecco noi eravamo arrivati a quello e ben oltre che quello risultato e conclusione io non credo affatto che finisce il mercato né finisce il capitalismo finisce un modello un modello che era sbagliato secondo me un modello che però attenzione aveva delle determinanti macro è un modello che ha consentito agli Stati Uniti di crescere del 50% al ritmo del 4-5% in 10-15 anni era un modello che aveva una spiegazione geopolitica perché l'iperconsumo americano finanziato a debito faceva fronte a qualcuno che aveva interesse a far esplodere la propria produzione perché entrava nello sviluppo cioè la Cina e riequilibrava lo sbilancio dei pagamenti americani comprando asset denominati in dollari anche questo finisce e noi alla fine di questa crisi avremo gli Stati Uniti che conteranno molto meno nella bilancia mondiale per un po' di tempo non tanto per l'Iraq per l'Afghanistan ma perché perché questo si realini sarà necessario un realinamento dell'intera capacità di consumo degli americani e la loro capacità di risparmio e questo significherà per molti milioni di americani stringere molto la cinghia io vi ricordo che da molti anni da un bel po' di anni a questa parte gli americani hanno una capacità di risparmio negativa tanto per essere chiari e quindi riallineare i consumi a quella base significa fare sforzi terribili l'America lo farà però l'essenziale è e qui concludo davvero che i banchieri che nel nostro paese noi abbiamo avuti di quella scuola e per quelle ragioni sappiano dare ai banchieri più giovani visto che da un po' di anni a questa parte la legge bancaria l'abbiamo cambiata e siamo tornati al modello di banca universale verso il quale io vi dirò nel nostro paese sono molto critico e vorrei un dibattito su questo perché secondo me nelle banche italiane in media la capacità diffusa di valutare il merito di credito manifatturiero sui servizi non è ancora abbastanza approfonditamente radicata come lo era invece quando il credito a medio e a lungo era separato dal credito ordinario dico che quei tipi di valori per queste quattro ragioni devono sapere trasferire ai giovani bankers italiani una capacità di giudicare che ci sappia tenere il più possibile lontani dagli errori sui quali alcuni hanno costruito grandi fortune un paese ha costruito una straordinaria potenza ma dei quali a noi sono arrivate solo le conseguenze negative e lo dico perché credo che la funzione didattica ai giovani banchieri è quella che mi preoccupa di più è capitato alla fine delle lezioni proprio perché mi trovavo con studenti che quasi sempre solidarizzavano con gli investment bankers i cui casi di volta in volta affrontavo alla fine io gli ho messo un questionario anonimo chiedendo loro che cosa volevano fare una volta conseguita la laurea o il master per chi tra loro volesse conseguirlo e lo cito spesso questo dato la cosa che mi ha addolorato è una risposta per cui tra cento di loro solo cinque volevano andare a lavorare in un'impresa più di settanta volevano fare i giovani bankers d'affari io temo che l'attrattiva che su molti giovani sui migliori che io conosco da vent'anni a questa parte degli bonus straordinari delle fees straordinarie che il giovane banchiere d'affari che nasceva come broker e poi diventava giovane banchiere d'affari e tra i 27 e i 45 anni portava a casa pacchi di milioni di euro o di dollari ecco io credo che quella sia una malattia che per anni ancora può potenzialmente esercitare conseguenze negative e sto parlando dei migliori tutti quelli i miei coetanei che ho visto andare nelle sale di cambio e poi a lavorare ad ABN ad Iman a Morgan Stanley eccetera eccetera alla mia età tranne due sto parlando di dieci persone ma tranne due che sono ancora in esercizio sono otto sono già ritirati sono in pensione e conducono una meravigliosa vita ma la loro vita mi chiedo ogni volta glielo ho sempre chiesto di che lacrime gronde di che sangue di bilanci industriali che hanno avuto meno chance di avere una remuneratività magari ritardata nel tempo ma costruendo progetti di impresa vera costruendo posti di lavoro veri ecco io sogno un sistema bancario in cui la banca è per l'uomo e non l'uomo per la banca secondo me Colabraro lo ha fatto in tutta la sua vita e ce lo insegna in questo libro un'esposizione magistrale chiara semplice molto lucida insomma una vera lezione allora sentiamo adesso Elieco Lebrano anzitutto mi trovo perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto anzi mi ha risparmiato a questo punto di dilungarmi un quarto d'ora proprio sullo specifico argomento che rientrava tra i temi che volevo toccare anche perché è d'attualità e quindi siccome io sono convinto che come sono sempre stato convinto che l'attuale modello di funzionamento delle banche necessariamente va soggetto a dei ritocchi occorre assolutamente trovare delle nuove formule nuove formule che per me in parte ricalcano la legge del 36 che lei ha citato e in questi giorni ieri mi pare il Fondo Monetario Internazionale ha detto edice state attenti perché è la più grossa crisi finanziaria dopo gli anni 30 bene proprio perché le cose stanno così io credo che il primo rimedio dovrebbe essere il ritorno a quei rimedi che sono stati adottati dopo la grande crisi del 29 e proprio per questo io mi ero messo in budget di parlare dell'argomento la ringrazio così a questo punto almeno su questo tema mi astengo ecco invece penso innanzitutto di dover riconoscere diciamo una doverosa scusate la cacofonia riconoscenza alla signora Frua De Angeli per la per la brillantezza con cui ha saputo andare a ricercare a selezionare diciamo gli elementi rilevanti in quella prima parte del libro dove più che altro vengono riportati spunti autobiografici e poi la ringrazio anche perché di questi stessi elementi lei ha trovato ha individuato le motivazioni che poi sono state alla base del mio processo di crescita e di maturità un'altra cosa che ci tengo a sottolineare sempre sulla relazione della signora Frua De Angeli che io mi sento veramente molto onorato di essere stato messo a fianco del professor Verdiglione a questo punto due calabresi che si sono poi costruiti la vita al di fuori dei confini della regione e quasi quasi mi è sembrato di captare che si possa o è stata ipotizzata una forma di raffronto tra i due beh io personalmente dico che considerato quello che ha costruito il professor Verdiglione che sta ancora costruendo il raffronto non è fattibile alla luce della mia diciamo modesta anche se non disprezzabile carriera professionale venendo al libro dico che nella parte riguardante le esperienze professionali i punti toccati che poi sono stati pochi anche perché non era un diciamo un libro un trattato da scrivere su argomenti ben individuati ma era un laboratorio editoriale che mi pare abbiamo tenuto in una stanza al di sotto di questa sotto no? Ecco i temi che vengono toccati essenzialmente sono una fugace un fugace accenno alla storia del sistema bancario italiano il project financing i derivati e il ruolo delle istituzioni bancarie europee tipo BEI tipo BERS SEB KFV tedesco ora su ognuno di questi temi sarebbe stato necessario fare un trattato e non era questo l'obiettivo del tema anzi io dico che se voi leggendo voi il libro vi possono venire tante curiosità e allora a quel punto queste curiosità ve le posso soddisfare ponendomi i quesiti che vi vengono fuori spontaneamente leggendo il libro medesimo ringrazio il dottore che mi ha fatto diversi elogi su alcuni temi almeno io così l'ho captati ecco su una cosa diciamo che convengo in pieno oltre che sul fatto di aver operato per tutta la mia vita professionale tenendo presente la distinzione tra credito a breve e credito a lungo termine e tra diciamo omogeneizzazione delle scadenze e della provvista e degli impieghi omogeneizzazione anche del tipo di provvista se a tasso fisso o a tasso variabile e degli impieghi a tasso fisso o a tasso variabile questa è stata un po' una una religione per tutta la vita negli istituti in cui io ho operato istituti in cui primeggia l'istituto mobiliare italiano poi si arrivò alla fusione con l'istituto bancario San Paolo di Torino e ne venne fuori il San Paolo Imi però visto che nell'Imi ero stato un po' posso anche utilizzare forse azzardato questo termine ma il fondatore della diciamo del comparto pubblico dei finanziamenti dell'Imi cioè prima l'Imi svolgeva solo ed esclusivamente credito mobiliare credito industriale poi a una certa data siccome la concorrenza cominciava ad essere abbastanza forte abbastanza accanita qualcosa bisognava inventarsi per costruire un conto economico adeguato al nome dell'Imi che ricordiamoci nel dopoguerra aveva avuto anche l'incarico di gestire il piano Marshall quando lo Stato italiano non riusciva ad avere affidamenti sui mercati internazionali l'Imi riusciva ad avere dei grossi affidamenti e più di una volta ha avuto ricordo affidamenti dell'ordine di mille miliardi di lire dell'epoca che poi non venivano all'Imi andavano direttamente a Banca d'Italia a tutela della nostra moneta ecco l'Imi ha sempre avuto come religione quello di operare rispettando in pieno questa necessità di omogeneizzare impieghi e provvista anche sotto il profilo dei tassi credo che oggi un qualche ritorno opportunamente modificato a questo tipo di operatività non sarebbe male sicuramente avremmo evitato tanti guai che oggi ci troviamo a dover affrontare anche perché io neanche ricordo però ascoltando quello che è stato detto fino adesso c'è un punto nel nel libro in cui si parla delle vicende degli ultimi anni nel settore bancario delle aggregazioni fusioni e quindi la creazione di giganti del credito ora a questo punto soprattutto dopo che negli anni 90 quando tutti ci aspettavamo che la conferma sarebbe andata per il gruppo polifunzionale e non per la banca universale a questo punto avendo intrapreso la strada della banca universale è comprensibile anche perché con l'unione europea resta il fatto che chi si pone al vertice di questi giganti non ha la possibilità materiale di controllare l'andamento dei singoli business invece col gruppo polifunzionale cosa avveniva c'era una holding e poi che controllava una serie di allora aziende che Grazie a tutti. Grazie a tutti.